buongiorno raga sono molto contento perché ragazzi l'ultimo video me l'avete spaccato abbiamo fatto un sacco di record siamo a 180 mi piace in soli ragazzi 45 giorni dalla pubblicazione però sono un po giù anche perché le statistiche di youtube non mi stanno funzionando lette mi calano ogni giorno le ore visualizzate iscritti mi calano visualizzazioni mi calano non capisco tutto questo ragazzi però comunque vi voglio dire che la prova è stata superata voi state vedendo questo video io già sono in macchina per il grande viaggio quindi oggi abbiamo due compiti importanti uno andremo a pulire bene 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 la macchina perché la non posso fare brutta figura il secondo è farvi vedere cosa mi è arrivato di nuovo già è stato aperto da mio padre perché non sapeva cos'era giustamente non l'ho avvertito però sono arrivati dei nuovi adesivi ragazzi grazie prima di iniziare il video i miei amici di adesivi italia vi lascio quel loro tag qua sotto il loro link se volete acquistare qualsiasi tipo di adesivi sono ragazzi puntuali è stato quattro giorni una settimana per arrivare gli adesivi li ho comprati da altre parti e sono passati minimo due settimane e mezzo quindi per me ragazzi sono stati abbastanza bravi mi hanno spedito gentilmente questi adesivi l'adesivo più atteso da me era questo ragazzi mamma mia mi mancava troppo raga finalmente ce l'ho avuto e ora andremo ad attaccare insieme però prima andremo a pulire la macchina adesivi ovvero tutti questi gli adesivi italia gli adesivi italia ragazzi e questo qua pure too fast for the police ovvero più veloce della pulizia oppure troppo veloce per la pulizia non mi sta prendendo in mente la traduzione è questo anche in meno spedito sarebbe l'adesivo di stone island ragazzi devo andare a togliere uno comunque ragazzi non lo so in caso farò un contest è un poveri adesivi da tutte le parti avanzati detto questo ragazzi fatevi un favore andatevi a seguire tutti su instagram che sono stati gentilissimi con me e io vorrei essere gentile con loro e se avete bisogno di queste cose contattate loro detto questo andiamo insieme al video ok ragazzi possiamo iniziare il lavaggio penso ce l'ho diamo una sciacquata dai ragazzi iniziamo a inseguare la macchina e a lavarla ciao ho iniziato a pulirla andiamo a pulirla davanti ora affiancata pure raga puliamo puliamo raga il momento dell'acqua sono in cerito in fase di lavaggio rimediamo visto che non arriva la pompa raga diamogli una bella asciugata in modo tale che non restano le macchie qua andiamo a posizionare il nostro adesivo ora guardate come è finita ragazzi aspetto raga abbiamo finito di lavare la macchina possiamo attaccare il nostro adesivo guardate come è venuta pulita raga è bella mamma quanto è bella ecco la siamo eh lo vedete dai raga fatto 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 dovrebbe essere tipo così lì siamo letta tutta l'aria e le cose per farlo attaccare è uno spettacolo però scolo raga purtroppo non ho potuto fare il video dove lo spellavo comunque è venuto una figata e infine raga chiudiamo le bellezza lo mettiamo l'ultimo qua perché non so dove metterlo così anche se la polizia da dietro mi vede dice che è un pelo ovviamente scherzo raga ovviamente scherzo meglio di prima il tuo fast for the police raga spero che questo video di oggi vi sia piaciuto lasciate un pollicione se sia stato così commentate iscrivetevi e noi ci vediamo alla prossima con un altro video ciao e bella a tutti raga